Una domanda su questa stagione, se vuole un resoconto per lei di questa stagione un po' fatta di alti e bassi, sperando un po' nella prossima stagione di migliorare soprattutto sul punto di vista mentale. Sapevamo già che è un campionato molto difficile, abbiamo avuto comunque durante il tragitto degli infortuni, come tutti gli anni, abbiamo avuto la fortuna comunque di portarci a casa a Kazischi, quindi ha cambiato un po' la situazione. Sì, ci sono stati degli alti e bassi, ma voluti anche dal fatto che tanti ragazzi sono giovani e quindi praticamente certe partite per loro era la prima volta che le affrontavano con un certo peso, una certa tensione, quindi da questi sbagli ripartiamo e dal prossimo anno cerchiamo di fare meglio. Sì, soprattutto, in assoluto stante tanti giocatori sono arrivati, quindi tanti ragazzi erano nuovi sia per l'ambiente sia in Italia nel campionato. Per il prossimo anno, soprattutto per i giovani che avranno un anno di esperienze in più, potrebbe essere un punto importante a vostro favore? Ma sì, sicuramente, sicuramente il nostro coach lavorerà per migliorarli ancora e amalgamarli ancora, sicuramente, questo sì. Poi, ripeto, il campionato ci fa sempre più difficile perché anche il prossimo anno chi è arrivato sotto di noi sappiamo che si rinforzerà molto e quindi un anno in più di esperienza sicuramente ci darà la forza di migliorare e continuare su questa strada. Grazie.